Mercoledì 31 gennaio 2018, trentunesimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dell'acquario. La chiesa ricorda la beata Ludovica Albertoni. L'onomastico. Oggi si festeggiano gli onomastici di Ludovica, Marcella, Saverio, Saveria, Ciro e Cira. Cognomi italiani. Il cognome di oggi è Lungo. L'etimologia è probabilmente legata alle caratteristiche somatiche di un capostipite alto e magro. È largamente diffuso in tutta Italia con poche varianti. Longhi, che troviamo soprattutto al nord, Longetti, molto raro e tipico del perugino, e Luongo, diffuso solo al sud. Accadde oggi. Il 31 gennaio del 2015 Sergio Mattarella viene eletto dodicesimo presidente della Repubblica Italiana. Chi è nato oggi? Oggi facciamo i nostri auguri alla cantautrice Malika Iann, nata a Milano il 31 gennaio 1984. La citazione da ricordare. Perdonando troppo a chi falla, si fa ingiustizia a chi non falla. Baldassarre Castiglione. Dice il saggio. Non piantare la tua vigna al lato della strada. Chiunque vi passi se ne prenderebbe un grappolo. Proverbio cileno. Un consiglio al giorno. Avete preparato una frittata, ma si è attaccata al fondo della padella e non volete romperla per metterla nel piatto di portata? Copritela ermeticamente con un coperchio per due o tre minuti. Il vapore che si formerà all'interno vi permetterà di staccarla con grande facilità.